ciao eccoci quasi scout all'appello questo periodo a secco perché la piscina acqua sport di oristano responsabilmente ha deciso di tenere chiuso da prima che lo imponesse il decreto per tutelare i nostri atleti e i fruitori della piscina che cosa facciamo ci annoiamo a casa con televisore telefono no no e allora che facciamo ci facciamo video ci facciamo video in questi video proviamo a raccoltare come per te spiegare i nostri ragazzi speciali piccole cose come apparecchiare come lasciarsi le scarpe a vestirsi da soli cose devono imparare le una maglietta le autonome devono crescere imparare a trastare al mondo e allora pubblichiamo qualche video lo faranno anche i nostri compagni di squadra casa da casa loro ciao buon divertimento